Questo video riguarda i migliori 3 macina caffè. Il vincitore della qualità è il Bonsen Kitchen Macin Caffe. Macina caffè con macinino di alta qualità con capacità dell'imbuto fino a 230 g di chicchi e contenitore per 90 g di polvere, per soddisfare tutte le esigenze quotidiane. Macinatura personalizzata a secondo il tipo di polvere che preferisci. Scegli la quantità da tritare e scopri le innumerevoli opzioni per lo spessore della miscela dosatore con regolazione 12 caps. Il disco per sbavatura conico per impieghi gravosi consente una macinatura oltrafine ed è adatto per il caffè turco. Minima perdita di aroma grazie al coperchio del cono, con il quale potrai ottenere in qualsiasi momento una miscela fresca e profumata per preparare deliziosi caffè. L'ampia scelta fra i numerosi livelli di macinatura consente di ottenere la miscela desiderata in base al tipo di caffè da preparare. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Gronenberg Macinacaffè. La precisa smerigliatrice conica del nostro macinacaffè manuale è realizzata in ceramica e quindi particolarmente resistente. L'impostazione del grado di macinazione confortevole e infinitamente variabile di Gronenberg Coffee Grinder garantisce una macinatura uniforme, da fine per espresso a grossolano per la caffettiera a stantuffo e caffè filtrato. Il nostro macinacaffè manuale è realizzato in acciaio inossidabile 304 di alta qualità e, a differenza di molti altri macinacaffè in acciaio inox, questo vale anche per il manico, che lo rende assolutamente antiruggine. L'ambiente in cui viviamo è importante per noi. Ecco perché il tuo macinacaffè è privo di plastica al 100%. L'imballaggio esterno è realizzato in cartone craft non trattato e riciclabile. Il funzionamento del nostro macinacaffè è incredibilmente semplice, ma per ogni evenienza abbiamo incluso delle pratiche istruzioni. Il vincitore del premio è il KYG Macinacaffè. Il macinacaffè elettrico KYG ha due lame molto affilate e un motore ad alta velocità da 300 W, meglio mantenere l'aroma e l'olio originali dei chicchi di caffè. Basta chiudere e girare il coperchio per iniziare a macinare. Puoi macinare facilmente i tuoi chicchi di caffè preferiti e trasformarli in polvere. La lunghezza media dei chicchi di caffè è di circa 10 mm. La nostra lama per macinacaffè elettrici KYG è alta solo 6,0 mm. Questo design assicura che non vediamo chicchi di caffè interi bloccati sotto la lama dopo ogni macinatura. I macinacaffè KYG forniscono immacinazione più uniforme. Il macinacaffè elettrico KYG adotta un motore ad alte prestazioni e di alta qualità. Praticamente non c'è rumore durante l'uso e non ti disturberà. KYG macinacaffè elettrico è realizzato in acciaio inossidabile 304 per uso alimentare e plastica ABS. Privo di BPA, non facile da arrugginire, resistente all'usura e durevole. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.